Un fatto gravissimo quello che è accaduto ieri, tutta la solidarietà, io oggi pomeriggio andrò a trovare il poliziotto che è stato ferito, l'abbiamo sempre detto, 50 persone sono sicuramente un fatto positivo, ma sono poche, sono poche perché anche qui si hanno delle forti discriminazioni tra i reparti, le forze e l'ordine che negli ultimi mesi sono stati dislocati a Milano per esempio per Expo e che saranno dislocati a Roma per il giubileo. Benissimo, però su Napoli c'è una grande attenzione di parole al vento che abbiamo ascoltato in questo periodo anche da esponenti delle istituzioni e una forte concretezza di quelli che operano a Napoli, un po' meno di quelli che ci dovrebbero aiutare da Roma, quindi sicuramente la svolta non le hai con 50 persone, per dirla breve a Napoli ci vogliono più pattuglie, ci vogliono più pattuglie di sera e di notte e più pattuglie non le riesci ad avere solo con 50 uomo.